Buonasera amici, siamo in compagnia di Claudio Melani. Cos'hai da dirci? Salve a tutti ragazzi, stasera vi trovo qua al Porto del Mar per presentarvi e ricordarvi soprattutto l'appuntamento con Circus, la nuova One Night salgata a Porto del Mar che torna nuovamente sabato 7 novembre. Una festa assolutamente da non perdere, ogni mese un circo diverso che farà da animazione, questo mese sarà la volta del circo di Moreno Orfei, un circo strepitoso da una grande tradizione cercente, sarà con noi anche Mr. Leo alla voce dal Padua Price Village 2009, fantastico, Venelo Petuz come resident vocal, io sarò in console, una serata assolutamente fantastica, diversa alle altre, fatta di musica, di arte, ma soprattutto anche di magia, dove ogni cosa reale potrà praticamente sparire, basta che voi lo vogliate. Cosa dirvi ancora? Io vi aspetto ancora sabato 7 novembre, per una serata assolutamente fantastica, perché c'è tutto l'importante sicuramente è quello di divertirti insieme, il circo è la cosa che ancora ci diverte e fa divertire non solo i bambini, ma anche i grandi. Io vi aspetto tutti sabato 7 novembre, ciao!